Buonasera, benvenuti a tutti. Ecco, noi siamo molto lieti di dare inizio a questo festival che nella sua prima edizione, diciamo, si vede qui in questa serata intitolata Ozzano in canto. Questo festival è organizzato dal gruppo musicale di Ozzano delle Miglie con il sostegno dell'assessorato della cultura di Ozzano e con il contributo di Proloco. La manifestazione nasce con l'intenso di promuovere e di divulgare la musica corale anche valorizzando i luoghi del nostro comune come questa splendida villa in cui questa sera ci troviamo. Questa prima edizione è dedicata alla musica popolare e questa sera abbiamo il terzio di ascoltare il coro Cento Passi, diretto da Grassi Sterdi e il coro Scarica l'Asico di Bunchi d'Or diretto da Damiano, di Gabberini. Ecco, quindi adesso io inviterrei già il coro Cento Passi all'avvicinarsi intanto che noi giriamo il campo per svolgerli e lasciamo loro la scena. Grazie. 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 Grazie.